buongiorno e oggi è una bella giornata di febbraio po freschetto come avevo promesso ho iniziato il video con questo questa panna panoramica del del della rocket del cono cosa ho fatto ecco allora ho messo dentro la stufa non so se si riesce a vedere perché un tubo da 12 poi ho messo questo pezzo che avevo fatto in precedenza per altre cose niente il cono l'ho dovuto tirar su perché con il calore mi stava c'è rischiava insomma di bruciarmi il pelle dentro allora l'ho distanziato e sotto a una griglia dove appoggia il pellet e vedete il gas che viene fuori e pirulizza i chicchi di pellet e ora vi faccio vedere il con fuori che l'ho messo obliquo ok questo è il pelle dentro qui c'è l'aria non abbiamo insomma c'è andata anche un po di pelle ma non fa niente e le temperature sono 164 del piano cottura 62 63 in uscita il forno è arrivato a 100 poi non sono temperature 140 però la bellezza di questo questo bruciatore che poi cioè sono tutti tutti i miei sperimenti e sapete benissimo che mi piace sperimentare vediamo se riusciamo a farvelo vedere momento quando viene vedete che brucia i gas sono tutte le fiammelline blu queste fuori uscite di fumo non è altro che il gas che viene pirulizzato il pellet e produce il gas vedete i carboncini i carboncini del pellet e c'è la doppia combustione vedete il fumino vedete come vengano giù i carboncini ecco ecco avete visto il pellet in diretta è venuto giù e come avere un fornello dentro all'interno della stufa sempre acceso questa è una rocket io l'ho chiamata sempre uguale tipo la la fiamma quella delle olimpiadi della libertà ecco quindi a un consumo proprio minimo 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 perché ovviamente io ho messo il cono obliquo per favorire l'uscita del facilitare insomma l'uscita del pellet vedete come scende si sente anche niente vi volevo dire due cose che questi video sono puri esperimenti cioè non sono rete 186 non sono stufe molti di voi ho visto che siamo siete iscritti in tanti praticamente vi do degli spunti delle idee magari a molti di voi per le vostre stufe per le vostre vostre esperimenti e io con i miei video giornalieri come detto un youtuber molto conosciuto da voi amanti delle combustioni io mi diverto così mi piace fare piace molto fare a questi esperimenti non copio nessuno non vorrei non mi interessa sono le mie idee e li condivido qui con voi non mi vuol seguire può seguirmi benissimo a chi non piacciono queste cose ovviamente può cancellarsi l'iscrizione e niente io mantengo la temperatura costante serve servono 20 21 gradi in casa quindi adesso che sono queste temperature miti fuori altrimenti io vado a legna e grazie a voi un caldo saluto come sempre un abbraccio a tutti vi saluto ciao ciao ciao